La diocesi di Acireale è sempre più presente sui social media. L'iniziativa, frutto dell'impegno di Don Arturo Grasso, responsabile dell'ufficio delle comunicazioni sociali della diocesi accese e della conferenza episcopale siciliana, prevede, attraverso la diffusione di un manifesto con i vari QR code associati ai singoli social, una maggiore fruibilità degli stessi, a beneficiarne le comunità parrocchiali che potranno così essere sempre informate sull'attività della diocesi. L'obiettivo è raggiungere più utenti possibile, perché è bene raccontare ciò che di bello e di buono si fa nella diocesi e nelle singole parrocchie. Quindi vogliamo essere più presenti, sempre di più, appunto come dicevo, più presenti nei social, in questi campi, in questi luoghi virtuali. Certamente non vogliamo noi negare o rinnegare la bellezza dell'incontro e delle relazioni, ma questo forse diventa anche un motivo, questo dei social, diventa un motivo, una possibilità, un'occasione di poter parlare con coloro che sono lontani, fra virgolette, lontani dalla chiesa, lontani anche dalla nostra realtà accese. La lista di social media dove è presente la diocesi di Acireale include anche Trez e TikTok. In quest'ultimo caso si tratta di una novità assoluta in Italia per una diocesi. L'ho scoperto quasi per caso, il Vescovo mi ha inviato a Roma per partecipare a un corso di formazione sulla digitalizzazione delle comunità parrocchiali. Devo dire che lì con grande sorpresa la conferenza episcopale italiana ha detto che Acireale, infatti facevano i complimenti, Acireale è l'unica diocesi che è presente su TikTok. Dicono che sia un social pericoloso, è vero possibilmente, però bisogna anche abituarsi ad abitare in questi luoghi dove noi siamo lì non tanto solo per raccontare, ma anche per educare e formare alla bellezza.